C'è la necessità di non lasciare spazio alla vecchia politica, alle cattive abitudini, anche il terremoto ha complicato le grandi questioni che il Paese sta affrontando, ma io vorrei che fosse chiaro a tutti, a tutti i partiti, che se non ci fosse oggi Monti ad aver rimesso l'Italia al centro della scena, noi saremmo nel mezzo della bufera internazionale, come è la Spagna. Allora, prova di responsabilità, tutto il resto non conta, non c'è tempo per i giochi della vecchia politica.